Per lui con cui è iniziata la sua avventura, una canzone che ha fatto sì che tu Piero mostrassi immediatamente grande fiducia in questo ragazzo perché hai scacciato il pulsante, mi ricordo dopo quattro misure, prima ancora della voce, come avrebbero fatto i ramosi, one, two, three, four, push! E nonostante tu non avessi ancora sentito la voce di Giacomo Voli, Giacomo Voli è il tuo finalista e porta ancora una volta con il codice 4, ricordatelo sul palco di The Voice, rock and roll della Zeppelin by Giacomo. Giacomo Voli 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 Giacomo Voli